E' inutile parlare ancora di tutte queste cose, ormai la nostra situazione non ha una via d'uscita, cerca un altro argomento di conversazione. E' inutile tentare ancora, non c'è la soluzione, ma quante volte hai già tentato e dopo hai rinunciato, cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come fare a te i pensieri della gente. Ma per me non è così e dico non pensiamoci, ma cosa vuoi pensare? Ormai conviene più lasciare le cose come stanno, cerca un altro argomento di conversazione. E dici sempre che fra noi qualcosa è rimasto, io dico che cos'è rimasto, mi dici forse tutto, cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come fare a te i pensieri della gente. Ma per me non è così. Inutile parlare ancora di tutte queste cose, se proprio si dovrà parlare, facciamo come dico io. Cerca un altro argomento di conversazione. Cerca un altro argomento di conversazione.